Eagle Trucks è lo specialista in Europa per i cingoli in gomma rinforzati. Eagle Trucks produce una gamma completa di cingoli per tutte le marce e tutti i modelli di mini-escavatori, pale e mini-dumper. E la offre a prezzo diretto di fabbrica, i prezzi più bassi del mercato. Se ne trovate di più convenienti, vi riportiamo la differenza. Eagle Trucks è soprattutto la certezza di lavorare con prodotti di qualità, cingoli in gomma rinforzati. Partner sempre affidabile, Eagle Trucks mette a vostra disposizione un team di specialisti di prima ordine. Con i più in vantaggi del scorte a magazzino più grande in Europa, spedizione della merca è garantita nell'estrezzo giorno dell'ordine e consegna rapida e puntuale in tutta Europa. Non esitate, inviate il vostro ordine online in tutta semplicità. Grazie. Grazie.